Dopo 20 mesi di Africa sono stato rimpasiato e ho cercato lavoro subito perché tutti i miei colleghi di studio, tutti avevano trovato lavoro e bene pagati perché la mia scuola, l'Istituto Commerciale di Roma, alla fine del anno andavano a pigliare gli studenti che finivano perché eravamo bravi. Allora io trovavo subito la banca, la banca di credito italiano che era una galera, per me abituato all'aria, all'Africa e qui per andare al gabinetto bisognava chiedere la chiave al capo ufficio, dopo sei mesi non ce ne facevo più anche perché non mi davano il permesso per andare a dare l'esame all'università. Io avevo pagato un sacco di soldi e avevo fatto pochissimi esami perché stavo in Africa. Allora per combinazione, uno che avevo conosciuto a reggimento era impiegato all'Ara dittoria e venne richiamato pure lui nel mio reparto. Allora questo mi ha dato l'idea della dittoria e mi diceva bene e tornato dall'Africa, mi rivolte a questo che agli a dirgli era dalla dittoria. E' buona, buona, vieni, vieni. E feci domande. Cercai una spintarella. Perché dalla dittoria se non c'era la spintarella non c'era la vita.